In questa sezione studierai i 50 verbi irregolari più utilizzati nell'inglese. In particolare una ricerca ha stabilito che questi 50 verbi, che non sono tutti, perché i verbi irregolari normalmente studiati sono almeno 80, ma quelli realmente esistenti sono più di 100, ma con questi 50 già puoi coprire l'87% della conversazione e dell'utilizzo dei verbi irregolari in tutto l'inglese. Quindi studiando questi 50 verbi irregolari approfonditamente, usando questa guida, proprio grazie a questi 50 verbi irregolari fondamentali avrai accesso al 90% delle conversazioni in inglese. Cosa fare quindi per utilizzare questa guida? È una guida suddivisa in 5 lezioni. Ogni lezione ha in sé 10 verbi di questa lista di 50, ad eccezione della prima lezione dove troverai 13 verbi, perché i primi 3, come noterai, sono verbi fondamentali o verbi ausiliari. La procedura che trovi spiegata nella prima lezione poi viene ripetuta per le altre 5, quindi l'unica differenza nelle 5 sezioni è solo il cambio della lista di verbi. Una volta completata la prima decina di verbi, e quindi passata almeno una settimana, potrai saltare alla seconda lezione, che include sia il ripasso della prima lezione che lo studio della seconda lezione. Dopo un'altra settimana ancora, potrai saltare la terza lezione, che include sia il ripasso della prima e della seconda, e così via, in modo che quando arriverai alla quinta lezione, le altre 4 saranno ormai automaticamente tue. Questa guida ti insegnerà passo passo un metodo efficace e duraturo per imparare in modo sia passivo che attivo nella pronuncia, nel listening e nell'utilizzo i verbi irregolari. Quindi è necessario che tu segua questi passi step by step uno ad uno senza saltarli mai. È ovvio che a seconda del tuo livello potrai andare più veloce in alcune parti e più lento in altre. Sarai tu stesso a regolarti a seconda delle tue esigenze. Nelle istruzioni di ogni passo troverai anche le tempistiche per passare al passo successivo ed è fondamentale che tu le esegua correttamente, altrimenti non avrai un risultato efficace così come descritto nella dispensa. È un lavoro molto efficace, molto potente, ma va fatto in pochi giorni e soprattutto con un focus molto attivo. In questi giorni che praticherai i verbi irregolari potrai fare qualsiasi altra cosa d'inglese, il passive, listening, guardare film, studiare altre lezioni, ma il tuo focus principale dalla mattina alla sera, compreso quando prima vai a dormire, saranno i verbi irregolari. E quindi nella tua testa gireranno sempre questi verbi irregolari che dovrai ascoltare e ripetere durante il giorno per parecchie volte.